24. Uno squittio che arrivava da un angolo del seminterrato spinse Josh a prendere e ad accendere la torcia accanto a lui. La debole lampadina proiettava un raggio di luce gialla a fioca, ma l'uomo lo diresse in quella direzione per scoprire cosa ci fosse. «Cos'è?» chiese Swan, mettendosi a sedere a poca distanza da lui. «Penso che abbiamo un ratto». Fece girare la luce e vide solo un intrico di travi, stocchi di gran turco e il tumulo di terra sotto cui era sepolta Darlene Prescott. Josh allontanò rapidamente la luce dalla tomba. La bambina si stava appena riprendendo. «Sì, penso che sia un ratto», disse. Probabilmente aveva un nido da qualche parte qua sotto. «Ehi, signor ratto», chiamò. «Le dispiace se condividiamo il suo sotterraneo per un po'?» Dal suono sembra che sia ferito. «Probabilmente anche lui pensa che noi non siamo messi benissimo». Tenne lontano il raggio di luce dalla bambina. L'aveva già vista una volta in quella luce fioca e gli bastava. Quasi tutti i suoi bei capelli biondi erano bruciati e il suo volto era una massa di vesciche rosse e piene di liquido. I suoi occhi, che ricordava essere di un blu così straordinario, erano profondamente incavati e di un grigio nuvoloso. Era consapevole che l'esplosione non aveva risparmiato nemmeno il suo aspetto. Il riflesso della luce rivelava macchie di ustioni grigie che gli coprivano le mani e le braccia. Non gli interessava sapere più di quello. Avrebbe finito per sembrare una zebra, ma almeno erano entrambi vivi, e anche se non aveva modo di calcolare quanto tempo era passato dall'esplosione, pensava che si trovassero là sotto da forse quattro o cinque giorni. Il cibo non era più un problema e avevano molte confezioni di succhi di frutta. L'aria doveva entrare da qualche parte, anche se il seminterrato restava affoso. La preoccupazione più grande di Josh era la puzza della latrina, ma per quello non poteva fare nulla al momento. Magari più in là avrebbe scogitato un migliore sistema igienico, magari usando barattoli vuoti e seppellendoli nella terra. Qualcosa si mosse nel raggio di luce. «Guarda», disse Swan, «da quella parte». Un animale piccolo e ustionato era appollaiato su una piccola montagnola di terra. La sua testa si voltò verso Swan e Josh. E allora l'animale squittì di nuovo e scomparve tra le macerie. Josh esclamò, «Quello non è un ratto. È un… è un gopher», finì Swan per lui. «Ne ho già visti un sacco prima, a scavare vicino al parco per Caravan». «Un gopher», ripetè Josh. Ricordò la voce di Popo udire, «C'è un gopher nella bocca». Swan fu contenta di vedere qualcos'altro di vivo insieme a loro là sotto. Poteva sentirlo annusare nella terra, oltre la luce e il tumulo dove lasciò andare il pensiero perché non lo sopportava. Ma sua mamma non aveva più dolore adesso e quella era una cosa buona. Swan ascoltò il gopher annusare in giro. Aveva molta dimestichezza con quegli animali, per tutte le buche che scavavano nel suo giardino. «Tutte le buche che scavavano», pensò. «Josh», disse la bambina. «Sì». «I gopher scavano buche», disse lei. Josh fece un debole sorriso per quello che pensava essere solo un'affermazione infantile, ma il suo sorriso si congelò quando realizzò dove Swan voleva andare a parare. Se un gopher aveva il nido là sotto. Allora poteva davvero esserci una buca che portava all'esterno. Forse era da lì che arrivava l'aria». Il cuore di Josh accelerò. Forse Popo sapeva che c'era una buca di gopher da qualche parte nel seminterrato e quello era il messaggio che aveva tentato di comunicare. Una buca di gopher poteva essere allargata per scavare una galleria. «Abbiamo un piccone e una pala», pensò. «Forse possiamo scavarci una via d'uscita». Josh strisciò fino al punto in cui giaceva il vecchio. «Ehi», disse. «Puoi sentirmi?», toccò il braccio di Popo. «Oh, signore», sussurrò Josh. Il corpo del vecchio era freddo. Giaceva rigido, le braccia lungo i fianchi. Spostò la luce sul volto del cadavere e vide le ustioni scarlatte sparse, come una strana voglia sulle guance e sul naso. Le orbite oculari erano buchi aperti di colore marrone scuro. Il vecchio era morto almeno da qualche ora. Josh fece per chiudere le palpebre di Popo, ma non c'erano più. Anche quelle erano state incenerite e vaporizzate. Il gopher squittì. Josh diede le spalle al cadavere e strisciò verso il rumore. Cercando tra le macerie e con la luce, trovò l'animale mentre si leccava le zampe posteriori bruciate. Sfrecciò bruscamente sotto un pezzo di legno incastrato nell'angolo. Josh lo afferrò, ma il legno era incastrato saldamente. Iniziò a liberarlo con tutta la pazienza di cui era capace. Il gopher rumoreggiava, arrabbiato per l'invasione. Lentamente Josh riuscì ad allentare il pezzo di trave rotta e lo tirò fuori. La luce rivelò una piccola buca rotonda nel muro di terra, a circa dieci centimetri dal pavimento. «L'ho trovata!» esclamò. Si sdraiò sulla pancia e diresse la luce dentro la buca. A circa mezzo metro fuori dal seminterrato, il percorso girava a sinistra e continuò oltre la portata della luce. «Questa deve portare alla superficie!» Era eccitato come un bambino nella mattina di Natale e fu in grado di infilare il pugno nella buca. Il terreno era pressato e resistente, bruciato fino a diventare duro come l'asfalto, anche a questa profondità. Scavare in esso sarebbe stato un'assoluta faticaccia, ma seguire la buca avrebbe reso il lavoro più facile. C'era una domanda che lo preoccupava. Avrebbero fatto bene a uscire dal seminterrato nel prossimo futuro. Le radiazioni avrebbero potuto ucciderli sul colpo. Dio solo sapeva come fosse la superficie. Avrebbero osato scoprirlo. Josh sentì un rumore alle sue spalle. Era un rauco rantolo, come di polmoni congestionati in cerca di aria. «Josh!» Anche Suon aveva udito il rumore, che le fece stare dritti i peli che le restavano sulla nuca. Aveva percepito qualcosa muoversi nel buio appena qualche secondo prima. Josh si girò e diresse la luce verso di lei. Il volto coperto di vesciche della bambina era rivolto a destra. Di nuovo si udì quel terribile rantolo rauco. Josh spostò la luce e quello che vide lo fece sentire come se una mano gelida gli avesse afferrato la gola. Il cadavere di Poupou stava tremando e quel rumore orrendo proveniva da esso. «E' ancora vivo», pensò Josh incredulo. «No, no», pensò poi. «Era morto quando l'ho toccato. Era morto!» Il cadavere barcollò. Lentamente, con le braccia rigide sui fianchi, il morto iniziò a sedersi. La testa iniziò a girare centimetro dopo centimetro come un automa meccanico verso Josh Hutchins, con le orbite devastate che cercavano la luce. Il volto ustionato si increspò e la bocca si tese per aprirsi. E Josh pensò che se quelle labbra si fossero aperte, lui avrebbe perso lì e subito qualsiasi sanità mentale che gli rimaneva. La bocca si aprì con un sibilo e un rantolo d'aria. E da essa uscì una voce che sembrava una folata di vento, che attraversa dei giunchi secchi. All'inizio era un suono incomprensibile, lieve e distante, ma stava diventando più forte. E diceva «Pro-de-ci». Le orbite oculari si rivolsero verso la luce, come se ci fossero ancora degli occhi. «Pro-de-ci», ripeté la voce orribile. Sembrava che la bocca facesse fatica a formulare delle parole con le sue labbra grigie. Josh si ritrasse e il cadavere disse «Pro-de-ci-la-bambina». Ci fu una leggera brezza. Le orbite del cadavere presero fuoco. Josh era ipnotizzato e sentì suon pronunciare un debole e sorpreso «Oh». La testa del cadavere esplose in una palla di fuoco e la fiamma si diffuse e avvolse l'intero corpo in un bozzolo rosso-blu che si contorceva. Un'intensa ondata di calore sfiorò il volto di Josh e lui sollevò la mano per proteggere gli occhi. Quando l'abbassò di nuovo vide il cadavere dissolversi al centro del suo manto di fuoco. Il corpo restò in posizione seduta, ora immobile, e ogni centimetro di esso era in fiamme. Il fuoco durò forse altri trenta secondi, poi iniziò a estinguersi e l'ultima cosa a bruciare furono le suole delle scarpe di Popo. Quello che restava, però, era cenere bianca nella forma di un uomo seduto. Il fuoco si spense. La sagoma di cenere crollò. Era completamente cenere, anche le ossa. Collassò in un mucchio sul pavimento, e quello che restava di Popo Briggs era pronto per una pala. Josh tenne lo sguardo fisso. Della cenere volteggiò lentamente attraverso la luce. Sto perdendo la bussola, pensò. Tutti quei colpi sul ringa hanno fatto il loro lavoro. Dietro di lui, Swan si morse il labbro inferiore e lottò per non piangere per la paura. Non piangerò, disse a se stessa. Mai più. L'impulso di piangere passò, e lei lasciò che i suoi occhi tornassero sul gigante nero. Proteggi la bambina. Josh l'aveva sentito, ma Popo Briggs era morto, ragionò. Proteggi la bambina. Su Wanda. Swan. Qualunque cosa avesse parlato attraverso le labbra del morto, era sparita adesso. Erano solo Josh e Swan, da soli. Lui credeva nei miracoli, ma in quelli di tipo biblico. La separazione del Mar Rosso, la trasformazione di acqua in vino, nutrire una moltitudine con un cesto di pane e pesce. Fino a quel momento aveva pensato che l'epoca fosse finita da molto tempo, ma forse era un piccolo miracolo che entrambi avessero trovato questo negozio, si rese conto. Di certo era un miracolo che fossero ancora vivi, e un cadavere in grado di sedersi e parlare. Non era qualcosa che si vedeva ogni giorno. Dietro di lui, il goffer scavò nella terra. Sente l'odore del cibo che esce dai barattoli, dedusse Josh. Forse anche quella buca di goffer era un piccolo miracolo. Non riusciva a smettere di fissare quel mucchio di cenere bianca, e avrebbe sentito quella voce stridula per il resto della sua vita, indipendentemente da quanto sarebbe durata. «Stai bene», chiese a suon. «Sì», rispose lei, a stento udibile. Josh annui. Se qualcosa che andava oltre la sua comprensione voleva che proteggesse la bambina, pensò. Allora lui aveva dannatamente intenzione di proteggerla. Dopo un po', quando le sue ossa si furono di nuovo scongelate, strisciò per prendere la pala, e poi spense la luce per conservarla. Al buio, coprì le ceneri di Popo o Blix, con la terra di un campo di Gran Turco.